Con Francesco Palazzo, capitano degli allievi regionali classe 2001 Francesco, come riparte questo Scandicci dopo il clamoroso Ex Plua con la vittoria del campionato l'anno scorso? Questo gruppo sicuramente riparte con fiducia e voglioso comunque di far bene anche in questo campionato che verrà e quindi insomma adesso siamo ancora all'inizio e quindi c'è ancora tutto da vedere Senti, come sono andate queste prime settimane di lavoro sul campo? Tanto caldo ma anche tanta preparazione, un campionato allievi regionali che sarà difficile insomma che gruppo hai ritrovato da capitano o anche qualche innesto di qualità? Certo, ho ritrovato un gruppo sicuramente con questi innesti migliorato e comunque sempre il solito gruppo, siamo sempre molto uniti e anche con questo caldo si cerca sempre di fare bene Da capitano ti chiedo quali sono gli obiettivi secondo te a livello personale ma anche di squadra per questo Scandicci in vista di questo nuovo campionato? Sicuramente siamo fra le squadre, siamo queste 5-6 squadre che si giocheranno la vittoria del campionato insomma vogliamo cercare di arrivare in fondo, insomma tutti insieme e fare un bel campionato Perfetto, in bocca al lupo allora Francesco Palazzo al suo Scandicci Perfetto Perfetto